Nei social si va a chiamare Alex Fit con 2T, è una personal trainer ed ha un peso molto poco elevato, nel senso che è molto magra, e il video ha avuto un successo quello che ha fatto di recenti incredibili più di 3 milioni di visualizzazioni. Però si è sentita dire al suo medico che il suo peso era eccessivo, insomma ha fatto sentire una obesità quando in realtà non lo è, anzi è macrissima. La donna Alex Fit, ripeto con 2X e 2T, ha raccontato nei social la visita umiliante, il mio medico era sbalordito, rivela la donna da questo peso. Oh caspita, come se lei non potesse sentirlo. La donna infatti pesa soltanto 68 kg, è soddisfatta del suo aspetto fisico ed è una linea perfetta, già da dire però il dottore era contrario a questa, chiamiamola, situazione che lui stesso, o meglio la stessa, aveva avvisato nel suo fisico, che effettivamente è un fisico piacevole e garbato. Sembra proprio che il medico l'abbia fatta sentire in colpa e l'abbia abitata come una donna cecciotta, formosa, in realtà è macrissima. Insomma, la donna non ci sta e si è sentita letteralmente umiliata per colpa di questo medico e lei stessa, l'avrebbe detto, avrebbe divirato il suo benissimo fisico. E ovviamente ha ragione la donna in questione, non il suo medico. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, vedete le sue foto sul web, vi rendete conto di una bella donna, bionda e anche molto male e sexy. Ciao a tutti.